Dottor Vincenzo Martinez, Presidente della Quinta Commissione Permanente del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, affari istituzionali e statutari, autonomie locali, cultura e sport. Prima di tutto la sua opinione sulla riforma degli enti locali che si sta realizzando a livello regionale con l'assessore Panonti? La riforma degli enti locali è una delle grandi operazioni che questa amministrazione ha messo in campo, l'altra come sapete sarà la riforma della sanità, quindi siamo molto ambiziosi devo dire, peraltro la riforma degli enti locali è una necessità che noi abbiamo intravisto, abbiamo intravisto bene perché come vedete a livello nazionale si discute di titolo quinto, si discute di regionalismo, si discute di riforma del Senato, sono tutte cose che intrecciano la natura della specialità del Friuli Venezia Giulia, la sua organizzazione e quindi noi ci troviamo proprio nel mezzo di queste questioni avrendo preso per prima in mano il tema. Quindi il mio giudizio è positivo perché una cosa è in campagna elettorale dire vogliamo fare la riforma degli enti locali, spostare le funzioni dalla regione, i territori e via discorrendo. Una cosa è cominciare il lavoro e noi abbiamo cominciato a farlo, si vede perché naturalmente ci sono anche delle critiche ed è giusto che sia così, però abbiamo cominciato a lavorare su alcune questioni elettorali, abbiamo dimostrato che coerentemente con il nostro pensiero non faremo votare la provincia di Pordenone. Fra poco porterà l'assessore anche la riforma del referendum per facilitare la fusione dei comuni e quindi questa riforma ha iniziato veramente, praticamente il suo percorso. È partita. Lei oggi è intervenuto qui a questo convegno organizzato da Istoria per il settore cultura, quindi per quanto riguarda la commissione per la grande riforma che si realizzerà nel settore cultura. Lei ha detto che la crisi ci costringe a gestire le finanze in modo diverso, quindi scremando il meglio che le attività culturali in regione producono affinché appunto la cultura in Friuli sia libera, critica e plurale. Come pensate di scardinare i meccanismi che guidavano prima le operazioni del settore cultura? Bisogna essere un po' più precisi su questo. Non si tratta di scardinare quello che succedeva prima, si tratta, gioco forza, di gestire in maniera diversa le cose rispetto a come si faceva nel passato. Con la cultura non si mangia, diceva qualcuno, io dico che invece con la cultura, come citando personaggi importanti come Zacrebeschi, con la cultura si fa società, cioè si creano le condizioni perché noi ci sia una convivenza condivisa, per cui io e lei non ci conosciamo, ma ci riconosciamo sicuramente nel Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché ci sono motivazioni prettamente culturali, quindi la cultura è importante perché ci aiuta a fare società e noi in questa fase critica abbiamo bisogno di società, abbiamo bisogno di regolamentarci, di definire meglio i nostri rapporti e possibilmente basarli su criteri democratici. Questa è la cultura, a questo serve la cultura e serve anche l'innovazione e noi in questa fase qui abbiamo bisogno di tanta innovazione in tutti i campi, quindi la cultura in senso lato è utilissima. Non ci si mangia, qualcuno dice, ma è utilissima perché noi si funzioni meglio. Allora, rispetto al passato in cui c'erano tanti soldi e venivano elargiti sul territorio con meccanismi che quella volta erano possibili, e questo devo dire però ha fatto sviluppare anche un tessuto di grande qualità in Friuli Venezia Giulia, quindi insomma ha funzionato finché c'erano i soldi. Adesso che i soldi non ci sono più dobbiamo per forza cercare di introdurre criteri più oggettivi. La perfezione non esiste, quindi non sarà nemmeno semplice, però l'idea è che vogliamo il più possibile sganciare il finanziamento pubblico alla cultura da meccanismi individuali, soggettivi o personalità politiche, che magari in passato sono state anche capaci di buone cose, ma adesso noi dobbiamo cercare di rendere oggettiva la qualità della cultura. Quindi ci baseremo di più sui regolamenti, ci baseremo di più sui bandi, quindi chi ha progetti li presenta e a fronte di bandi ci saranno delle graduatorie, quindi verranno premiati chi oggettivamente dimostra qualità. Anche questo non è semplice, detto così è semplice, ma certamente bisogna creare delle condizioni perché ci si avvicini a questi meccanismi. Puoi anticipare questi bandi? Quali criteri avete privilegiato? No, non posso anticiparlo perché gli uffici ci stanno effettivamente lavorando, tra l'altro entro maggio ho capito che usciranno questi bandi e quindi fa qualche settimana li avremo sott'occhio anche con la commissione, quindi sapremo anche verificarli insieme. Senta, lei è sensibile anche al tema delle identità linguistiche, al ruolo delle lingue e della cultura friulana, come stanno andando le cose in questo settore? Io ricordo che una delle motivazioni della specialità del Friulenzia Giulia è partita storicamente dal riconoscimento della lingua minoritaria dello sloveno, quindi uno dei motivi del perché la nostra regione ha statuto speciale è che la lingua minoritaria e la cultura minoritaria sono una delle fonti di questa dimensione culturale e sociale che noi abbiamo. Naturalmente poi le cose evolvono e ci sono tante motivazioni tra le quali la capacità di avere relazioni internazionali e anche questa è una cosa sulla quale noi dovremmo battere e quindi le lingue minoritarie sono un patrimonio del quale il Friulenzia Giulia non può fare a meno. Adesso naturalmente le cose sono complicate, i soldi si sono ridotti, però io devo dire che mi prendo responsabilità di quello che dico, negli ultimi cinque anni l'attenzione nei confronti delle lingue minoritarie è molto scemata. Guardate, non è una questione solo di soldi perché noi troveremo le modalità per finanziare meglio le lingue minoritarie. Qui è un problema di dare rilevanza a questa questione. O ci crediamo o non ci crediamo. Quindi si tratta anche di trovare una progettualità nuova, io direi anche contemporanea, la dico così, così ci capiamo, per far comprendere alle nuove generazioni l'importanza della lingua madre, della lingua minoritaria e dello scambio che le relazioni linguistiche ci permettono, anche per guardare le relazioni europee in maniera differente e per quanto piccoli in maniera paritaria. Senta, quale dei diversi temi le stanno più a cuore fra le competenze molto estese della Commissione Permanente del Consiglio regionale, da lei presieduta? Affari istituzionali, statutari, forma di governo, elezioni, discipline del referendum, autonomie locali, usi civici, insomma, è lungo. No, io sono molto contento di quello che è successo, cioè che mi è stata data questa opportunità di fare Presidente della Quinta Commissione. Presidente, io ho fatto il Vice Sindaco Udine dieci anni, quindi insomma ho fatto un'esperienza amministrativa molto importante, e il fatto che si è voluto, perché è una novità di questo mandato legislativo, unire in una commissione enti locali e cultura, è una felice intuizione perché va nella direzione della riforma che stiamo facendo. Quindi, in verità, si è voluto ancora di più formalizzare il fatto che temi come la cultura, in particolare, hanno bisogno di essere gestiti da una parte in maniera strategica della regione, ma dall'altra parte, dal punto di vista funzionale, per la qualità che può svolgere sul territorio, dagli enti locali. Quindi la riforma che faremo prevederà certamente che un pezzo della gestione della cultura passi dalla regione, non più le province, perché non siano più utili in questo senso, ma gli aggregati di comuni. Quindi, voglio dire, mi sono trovato, proprio in questa fase di riforma importante, a guidare insieme alla commissione, che ha dei componenti molto importanti e molto attrezzati da questo punto di vista, una commissione che è proprio collocata specificamente nel percorso riformatore che intende questa amministrazione. Grazie.